Fortunatamente la seconda volta ci troviamo qua in questa palestra, ringraziamo innanzitutto l'amministrazione comunale di Muzana che per la seconda volta appunto ci ospita. Speriamo che questo evento diventi un evento fisso ogni anno all'incirca questa stagione. Abbiamo visto dentro che abbiamo riscosso un bel numero di presenze, un bel numero di partecipanti. Oggi sono coinvolti all'incirca otto società di box da tutto il Triveneto, la più lontana arriva da Ravenna, quindi direi che ci siamo spostati un po' in là. Vedo che le cose stanno andando bene, vedo che la gente è molto attratta dagli incontri, vedo che i ragazzi stanno divertendo, vedo che la nostra società, la SD Box Riviera Friulana sta crescendo sempre di più, sta continuando a espandersi, sta portando dentro nuova gente, sta organizzando sempre più manifestazioni e questo ci fa molto piacere e ci rende anche molto onore. Ringrazio ovviamente tutti quelli che ci aiutano e ci sostengono, tutti i partecipanti, tutti gli agonisti, tutti gli amatori, visto che da quest'anno abbiamo anche i corsi di amatori, abbiamo i corsi per le donne, per i bambini, di conseguenza siamo un bel gruppo. In questo momento abbiamo circa 40 tesserati, tra amatori, tra agonisti, tra donne, ragazze agoniste e amatrici anche queste. Allora, dall'anno scorso ci siamo spostati di palestra, come avevo già accennato, siamo sempre qua a Muzzana, nell'ex palestra delle scuole elementari, dove abbiamo adibito appunto degli spazi a un ring, dei sacconi, abbiamo costruito una piccola sede dove potersi allenare tranquillamente. Siamo all'incirca una decina di persone, tra Presidente, Vice Presidente, simpatizzanti, amici e quant'altro. Contiamo, grazie a Dio, tanti amici che ci aiutano, tra l'altro approfitto di questo momento per ringraziarli, perché per organizzare una manifestazione del genere, oltre al nostro direttivo, serve tanta 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 manodopera, come vede fuori, da uno semplice rinfresco, dalle griglie e quant'altro, anche a montare e smontare un ring. Sembra una stupidaggia, ma sono ore e ore di lavoro e tanta tanta gente coinvolta. Grazie a Dio ce n'è parecchi, ce n'è diversi. In questo momento non voglio far nomi, perché altrimenti potrebbero offendersi quelli che non nomino. Dico solo che abbiamo diverse persone che si stanno impegnando molto e stanno ottenendo diversi buonissimi risultati. Molto probabilmente preannuncio sarà l'evento di Porpetto, anche quello è un evento che organizziamo ogni anno, praticamente presumo il mese di marzo-aprile, poi dobbiamo un attimo metterci d'accordo con le varie amministrazioni comunali ovviamente. I corsi sono senz'altro aperti a tutto, tra l'altro gli interessati possono rivolgersi al nostro sito internet, possono telefonare, possono venire a visitare la nostra palestra, hanno una settimana gratuita di prova dove posso un attimino capire come funziona il mondo della box e finalmente togliamo ogni dubbio sul famoso detto della box che ti rompono il naso, che ti fracassano la faccia, che sono tutte dicerie di paese che sono completamente inutili. Non è per niente vera questa cosa qua, anzi approfitto per invitarvi a vedere come funziona veramente la box.